Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'episodio 63 della carriera con il Vicenza, secondo episodio della sesta ed ultima stagione con il nostro Lane. Andremo a continuare il mercato che nello scorso episodio è stato veramente veramente molto molto intenso, abbiamo fatto già tantissimi colpi, abbiamo cambiato le maglie, sponsor Nike, cambiato anche lo sponsor della maglia che è Kazoo, caso, ripeto come cazzo si chiama. Prima di iniziare vi chiedo mille mi piace per il prossimo episodio e tra l'altro devo ringraziare Hyper per avermi realizzato questo menu personalizzato, vi lascio il suo Instagram in descrizione. Per il mercato, come vi dicevo, ci servirà un altro difensore centrale, stiamo tra l'altro anche vendendo Malolas, che dovrebbe andare via per quasi 4 milioni, comunque lo diamo via abbastanza volentieri, terremo Weaver come quarto, quindi un altro centrale dovrà arrivare. Faremo il terzino destro di riserva per Lazzari, che però sarà un giocatore almeno 79-80 di overall, come riserva di Lazzari, che però possa anche giocare tanto. Per quanto riguarda il centrocampo, secondo me si è ammessi bene, a meno che non vendiamo uno tra Same e Changhissa e magari ci prendiamo un giocatore che può fare più il trequartista di riserva. In generale poi abbiamo anche Moretti, che è un buon giovane, è ancora un po' cervo, ma potrebbe trovare spazio se avessimo fatto una stagione in più volentieri. Comunque in generale Zagnolo può giocare C o C volendo, quindi non ci sarebbero grossi problemi. Sulle fasce si è ammessi bene, Mambimbi, Zagnolo, Talesmagno e Nionto. In attacco dovrà arrivare una riserva con la cessione di Sadik. Tutto questo lo faremo però con tanti soldi, ma non troppi, considerato quello che dobbiamo fare. Abbiamo poco più di 100 milioni, dobbiamo fare 4 colpi, non sarà semplice, dovremo gestire bene i soldi. Abbiamo ancora un paio di cessioni che possiamo fare, soprattutto ragazzi se arriveranno grosse offerte per alcuni giocatori potrei valutare di venderli. Però in generale la formazione titolare ce l'abbiamo. E per il terzino destro abbiamo trovato un paio di giocatori interessanti. Il primo è Ken Takashi, che solo per il nome Ken a me ispira. Quando ero piccolo mi guardavo un sacco Kenshiro, quindi anche su Tekken c'era Ken, quindi Takashi mi piace. Costerebbe poco però, sicuramente avendo venduto anche Gioni per 20 milioni ci sta a spendere la metà per lui. Giapponese gasa tanto, ha gasato tanto anche la chat. L'altro giocatore con cui era in ballottaggio era Nicolas Segura. Dovrebbe essere il regen di Jesus Navas. Svincolato, sarebbe costato nulla, però la chat e in realtà pure io abbiamo preferito andare sul giapponese. Quindi andremo a pagare una decina di milioni, poco più forse dal Bayer Leverkusen, andiamo a trattare e portiamoci a casa un colpo esotico. Io andrei ad offrire Moretti, abbiamo tantissimi terzini da dare via, costa 5 milioni e andrei ad offrire altri 5 milioni. Comunque Moretti è giovane, ha 21 anni, quindi non è proprio vecchissimo, però Takashi ce ne ha 4 in meno. Lo vogliono più 8 milioni, perfetto, almeno risparmiamo un po', andiamo con 6 milioni. 6 milioni più Fabio Moretti, sarebbe veramente un colpo super super low cost, considerato che Moretti l'abbiamo preso dalla primavera, quindi non ci è costato niente. Andiamo a 7, speriamo di chiudere col Bayer Leverkusen, sarebbero 12 milioni in totale, però in realtà sarebbero solo 7 perché Moretti, ripeto, l'abbiamo preso a gratis. Molto molto bene, andiamo a chiudere anche il terzino destro. Come stipendio gli offrirei 10 mila, lui al Leverkusen prende 2 mila, praticamente lo stipendio da giovanissimo, hanno accettato ovviamente 10k e quindi arriva anche il terzino destro di riserva. Secondo me abbiamo fatto un capolavoro, abbiamo ceduto Moretti, abbiamo venduto Gioni per 20 milioni e per soli 7 milioni ci siamo presi Ken. Eccolo qua Takashi, bel 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 esagono, gli andremo subito a dare il numero di maglia, vediamo cosa si è preso, si è preso la numero 6 che però non ci sta. A 55 di Nagatomo, vai vai ci sta. E li darei laterale, li migliora la difesa, il dribbling, i passaggi, ci mette 37 settimane però non ha un potenziale altissimo, meno male che è una riserva però sicuramente crescerà. Per l'attaccante abbiamo fatto tante ricerche, abbiamo aggiunto tanti nomi come tutti i giocatori, facciamo sempre un sacco di scouting e abbiamo trovato Joe Pedro, quello del Watford, che è andato al Palmeiras in Brasile, è tornato in patria, è cresciuto tanto, 24 anni, 84 di overall, può diventare ancora più forte sicuramente, potrebbe starci un suo passaggio in Serie A in Europa per provare a partire dietro nelle gerarchie rispetto a Macias, ma potrebbe diventare presto titolare, è più giovane di Macias, sicuramente ha più prospettiva di crescita rispetto a Macias, ma soprattutto è un giocatore già ben sviluppato, molto veloce, bravo tecnicamente, c'ha forza, c'ha una buona finalizzazione, un buon dribbling, c'ha anche dribblatore veloce, è alto, 4 stelle piede debole, può ancora migliorare tanto, c'ha grossi margini di crescita, il prezzo è abbastanza alto, tra i 60 e gli 80 milioni dicono che dovremmo offrire, proveremo ad inserire qualche contropartita tecnica. E proverei ad offrire Leo Castelli, che vale 9 milioni e mezzo, un giovane, un esterno sinistro che non può neanche giocare come Ala, un giocatore con stats anche abbastanza scarse, c'ha 20 anni, vale comunque 9 milioni e mezzo, in realtà anche qualcosina di più, e proverei ad offrire proprio la differenza, quindi 40 milioni, proviamo 40 più Leo Castelli, vediamo un po' cosa dirà il Palmera, secondo me comunque potrebbe accettare il nostro giocatore, non Leo Castelli, proviamo ad offrire qualcun altro, proverei uno dei nostri terzini, ossia Vukoja, che vale 4 milioni e 8, e proverei a dare magari un 52 milioni e mezzo, vediamo solo se vogliono Vukoja, se non lo vogliono andiamo dritti ad offrire solo cash, vediamo se vogliono Vukoja, no non lo vogliono, ma comunque chiedono meno di 70 milioni, il che è positivo, proviamo a vedere 56 milioni, voglio spendere il meno possibile, perché mi devo avanzare i soldi per altri ruoli, 56, Palmera ancora 69, vado a 60, secchi, vediamo, 60 non sono pochi per Joao Pedro, ma sarebbe comunque un grande colpo dal Brasile, sarebbe bella cassa anche per loro, 62-3, non ho fretta di acquistare Joao Pedro, voglio risparmiare quei soldi che sarebbe il suo ingaggio, quindi andiamo dritti con 60, se accettano anche questo sarebbe un colpo, non dico low cost, ma comunque un buon colpo, andiamo a trattare col giocatore e sarebbe secondo me presto il titolare del nostro attacco, accetta ruolo turnover, molto bene, ma troverà tanto spazio, perché mi ispira veramente tanto come giocatore, non l'ho mai provato tra l'altro, super utilizzato, parte con overall molto basso, ma non l'ho mai utilizzato in carriera, quindi sono molto curioso di provarlo, ormai siamo a fine FIFA, quindi ci sta a provare un po' di giocatori, come aveva fatto con Zagnolo, Renato Sanchez e per l'ingaggio io gli offrirei poco più di quello che prende in Brasile, oppure no, gli diamo 60.000 e gli do un 200.000 di bonus ingaggio, tanto un ingaggio altissimo in Brasile, prendeva tantissimi soldi, da noi 60.000 comunque non sono pochi, accettato, diamo il benvenuto anche a Joao Pedro, un nuovo Joao Pedro in Italia, sicuramente più forte di quello del Cagliari, speriamo che renderà tanto in questo campionato, eccolo qua Joao Pedro, per ora si siederà in panchina, però vi faccio vedere il confronto con Massias, a livello di velocità è più veloce, il tiro è più o meno uguale, è bravo tecnicamente, più bravo tecnicamente, difesa e fisico sono identici, quindi abbiamo una coppia di attaccanti veramente alla pari, forse Joao Pedro è anche un po' più forte. Come numero di maglia gli andrei a dare la numero 70, potevamo dargli altri numeri, per ora se ha preso la 13 ovviamente non ci sta, gli diamo la 70, sembra un po' la numero 10, c'è il 7 e secondo me gli sta bene la numero 70, quindi gli andiamo per il piano crescita, adesso dobbiamo migliorarli tanto secondo me il tiro, c'è 43 settimane, sicuramente diminuiranno quando giocherà tanto, però gli aumenterei soprattutto il tiro, un po' di velocità scatto per renderlo ancora più devastante, l'agilità, secondo me questo qua è perfetto, Rapace ci mette 43 settimane, gli darei questo così aumenta anche il livello intensità da medio ad alto. Arriva un'offerta dall'Atalanta per Mattia Perin, ci offrono Diego Rossi che ci ha sempre fatto il culo contro, poteva essere una buona scelta qualche anno fa ma adesso non mi serve, soprattutto Perin lo voglio tenere, eppure è cresciuto di valore, 25 milioni e mezzo, rifiutiamo assolutamente. Altra offerta dal Manchester City per Masias, attenzione, 82 milioni e mezzo, possiamo anche chiedere fino ai 133 milioni per Masias, mamma mia che offerta che c'è arrivata, se vendiamo Masias ci possiamo prendere una punta veramente veramente top, mi dispiacerebbe venderlo perché ci siamo affezionati al Nueve, la maggior parte sicuramente si saranno affezionati, io perlomeno sì, però ragazzi non vale tutti questi soldi, ve lo dico chiaramente, non li vale tutti questi soldi, l'abbiamo pagato soltanto sei mesi fa, se non sbaglio 60 milioni, massimo 70 milioni, non di più, se ricordo bene, dall'Everkusen, per lui sarebbe un bel trasferimento al Manchester City, farebbe tanti soldi, per noi sarebbe una bella cessione, già 80 milioni sono tanti, però possiamo chiedere fino ai 133, andiamo a trattare. Ve lo dico già, meno di 120 milioni, non lo vendo, la prima controfferta sono 130 milioni secchi, sono 60 milioni in più rispetto al suo valore, se lo vogliono veramente devono sborsare i soldi, 99 milioni, sono comunque tantissimi 100 milioni, andiamo a 128, sto molto molto alto, ve lo dico, meno di 120 milioni, Masias non si sposta, e 111, madonna mia, stanno offrendo un sacco di soldi, questa è l'ultima controfferta che faccio, 125, niente, hanno rifiutato, va benissimo, Masias resta con noi per il momento, non va al City, mi va benissimo così. Altra offerta dalla Premier, questa volta dall'Eister, per Ranocchia, 188 milioni, blocco le offerte anche per il Cup. Molto bene, Manolas venduto, arrivano offerte anche per Vukogia, un altro nostro esubero, 5 milioni e 6, accetto senza problemi. Anche Vukogia venduto, arriva un'offerta per Pellegrini dal Borussia, ci offrono Bowen, è cresciuto anche Pellegrini, ottimo, 84, ci ha messo un po' ma ce l'ha fatta, e a questo punto lo tengo, inutile vendere anche lui per cambiarlo, Pellegrini ha fatto due buonissime stagioni con noi, quindi rifiuto, resta al Vicenza. Altre offerte per Marino dall'Union Berlin e per Castelli dall'Empoli, vedete che sono soldi che entrano dalla nostra primavera, Castelli 11 milioni e 2, accettiamo, non stiamo a perdere tempo a trattare, Marino invece 3 milioni e 2, è giunto il momento della prima gara ufficiale, sarà contro il Brescia, saremo in casa, Coppa Italia subito ad agosto, andremo con la simulazione, non voglio rischiare, quindi andremo con quella lenta, in caso di bisogno come sempre andremo a gara in corso, per provare anche un po' di giocatori, arriva subito il primo gol, ha segnato Nionto, il palo è recuperato, arriva al 2-0, ha segnato Joao Pedro, grande grande anche Joao all'esordio, andiamo al risultato, finisce 2-0, abbiamo venduto Castelli, ci arrivano 8 milioni, arrivano offerte dal Marsiglia per 86 milioni per Calulo, che nel frattempo è diventato 86, anche Pierino Calulo blocca le offerte. Altra offerta dal Monaco per Lazzari, ci offrono Talisca, più 6 milioni, per Manuel Lazzari che è cresciuto tra l'altro, 85, ha 32 anni è cresciuto ancora, quindi rifiuto, però Talisca teniamo la mente. Ci serve anche un difensore centrale e andremo su Gianluca Mancini, in scadenza di contratto abbiamo cercato qualche buona occasione di mercato, abbiamo una sessantina di milioni, 55-60 milioni, Mancini ci costerebbe meno di 30, così da avere un po' di soldi per fare anche il trequartista di riserva per Smiley, arriverebbe dalla Stonevilla, dove è andato a fare un'esperienza in Premier League, ma secondo me da noi sarebbe un giocatore importante, sarebbe dietro nelle gerarchie rispetto a Calulo e soprattutto Rüdiger, però comunque sia Mancini, giocherà veramente e veramente tanto, e per quello che costa italiano, ce lo vedrei bene con la nostra maglia, sarebbe veramente un bel colpo, quindi andiamo a trattare con gli inglesi della Stonevilla. Tra l'altro mi fanno notare dalla chat che loro hanno lo stesso sponsor nostro, quindi sarebbe un bel acquisto del cazzo, scusatemi questa battuta molto squalida, potete anche chiudere il video e mettere il dislike. A parte di scherzi andiamo con 25 milioni, vediamo Gerard se vuole veramente Mancino, se lo vuole vendere, vogliono Samek, più 3 milioni, sembra un po' un'offerta fuori di testa, andiamo ancora con la stessa offerta, 25 milioni, vediamo che dicono 30 milioni e 6, ci chiedono comunque tanto, io sto sui 26 e mezzo, vediamo un po', voglio spendere il meno possibile per avanzare un po' di soldi per il COC, 28 e mezzo, not bad, veniamoci incontro, facciamo 27, voi dovete venire incontro un po' di più, perché in scadenza di contratto 27 milioni possiamo chiudere, sarebbe una cifra buonissima per il Mancio nazionale, accettato Steven Gerard, andiamo a chiudere anche per il Mancio, e poi ci giochiamo questa bella bella Supercoppa UEFA. Vuole ruolo importante, treni di contratto vanno benissimo, niente clausola, e ci chiede un ingaggio veramente, veramente basso rispetto a quello che prendeva in Inghilterra, soli 49 mila, forse potrebbe chiedere qualcosa di più, 50 precisi, mi sembra logico, andiamo ad accettare, firma con noi anche Gianluca Mancini, sarà il nostro terzo difensore centrale, però giocherà veramente tanto, vi ricordo. Eccolo qua il nostro Gianluca Mancini, difensore centrale, bello roccioso, italiano. Gli avevo dato la numero 5 a Mancini, ma mi dicono dalla chat che lui c'è la numero 23 alla Roma, quindi a quanto pare, magari forse per la roba di Materazzi, ora se lo ricordo bene, quindi gli diamo la numero 23 senza problemi, come piano crescita gli abbiamo dato invece difensore centrale, che siccome è perfetto per lui, dovrebbe crescere almeno, almeno a 84. È giunto il momento di affrontare il Real Madrid in Supercoppa UEFA, che bella questa grafica con Felix Mambimbi e da loro c'è Mbappé, Mbappé 97 di overall, avranno uno squadrone sicuramente. Andiamoci a giocare questa bella, bella partita, sono molto, molto carico, perché potrebbe essere il secondo trofeo per noi. Voglio giocarmela con la maglia nostra, la terza, quella commemorativa per la Champions, e loro giocano tranquillamente con la loro bianca. Ci sta questo abbinamento. giochiamo con i nostri titolari, esordio per Rudiger, per Sanchez e per Zaniolo. Hanno una formazione un po' particolare, Fernandes credo che sia Bruno. Forza, forza Lane, andiamoci a prendere il primo trofeo di questa stagione e il secondo di questa carriera. È tutto pronto, lo Stadion Europa per la finale, la Supercoppa UEFA, che finale è un'unica partita, vittoria per noi della Champions, per loro della Europa League. Real Madrid strano vedere in Europa League, ma comunque vincono sempre. Ci giocheremo un trofeo importante, loro l'avranno vinto diverse volte. Per noi, ovviamente, è la prima volta in assoluto che ci giochiamo questo trofeo. Giocano con Vinicius in attacco, un bappé, l'abbiamo visto, è in panchina. Sicuramente entrerà poi a gara in corso. Abbiamo una formazione molto forte. Sono curioso di provare un po' di giocatori nuovi che sono arrivati. Renato in difesa a Rudiger, ma soprattutto Zaniolo sulla fascia destra. Calcio d'angolo, lo batterà Renato Sanchez. Bella palletta verso Rudiger, arriva Militao in anticipo. Palla poi per Vinicius, che però non la tiene. Ci siamo ancora noi. Pellegrini verso Lazzari. C'è ancora Renato Sanchez, c'ha un bel piede. Uh, c'è dentro Massias, anticipa Courtois. Palla ancora lì, ci arriva ancora Tarkovski di testa. Quindi il capitano verso Renato Sanchez, che c'ha un buon tiro. Lo prova ancora noi. Zaniolo Murato. C'è ancora però Massias. Però dall'altra parte, per Fenix, deviazione! Palla fuori. Uh, sbaglia Courtois. Dobbiamo approfittare. Non c'è nessuno da aiutare Massias. Arriva Fenix. Può provare il tiro. Da fuori! Traversa! Ancora lì Zaniolo! Uh, non ci credo! Vabbè ragazzi. Che brutto modo per segnare il primo gol. Lo segna però contro il Real Madrid. All'esordio. Zaniolo la mette dentro. Al quarto d'ora di gioco. Siamo in vantaggio. Bella parata. Prima, però poi sulla traversa. Hanno sbagliato completamente. L'errore però è stato inizialmente proprio di Courtois che ha sbagliato il rinvio. Non una bella partita per il momento, per Courtois. Vantaggio però è il diciottesimo. Zaniolo. 18 minuti per fare il primo gol. Ultima occasione del primo tempo. Reynier non trova nessuno. Non ha modo neanche di girarsi. Attenzione però che si è creato un buco centralmente. Asensio. Manca un po' in seconda della fine del primo tempo. Reynier Junior di tacco. Palla che arriva per Vinicius. Come si è girato. E che gol di Vinicius Junior. Il fenomeno del Real Madrid. 1-1 alla fine del primo tempo. Migliore occasione per loro. La sfruttano. Siamo in parità. È entrato Mbappé per il Real Madrid. E mo' son cazzi. Ancora loro. Mamma mia Mbappé. È partito. Attenzione Rudiger. Prova a riprenderlo. Palla dentro. Bravissimo Lazzari. Ma che partita stanno facendo i nostri? In generale. Palla verso Zaniolo. Era difficile questo. Ho esagerato io. Bisogna stare più tranquilli. Soprattutto ora che è entrato Kylian. Bravo Rudiger. Palla ancora per loro. Vinicius per Mbappé. Si gira Kylian. Bravo Kalulu. Recupera il pallone. E ora ripartiamo noi. Sono un po' sbilanciati. C'è Macias sul filo del fuorigioco. Bella palla per Macias. Arriva il gol del 9 de Guadalajara. 2-1 al 63. Ha segnato il messicano. Vantaggio meritatissimo per il lane. Forse nel momento più complicato della nostra partita. Giorginho. Posizione un po' strana per lui. Porta avanti il pallone. Vinicius dentro. Attenzione. Bravo Perin. Bella parata. Si distende. Salva il risultato. Sul 84. Arrivano anche dei campi. Fuori Zaniolo. Fuori Massias. Fuori anche Rudiger. Entrano in campo forze fresche per tenere questo risultato. C'è anche lo spettro dei calci e dei rigori. Dei tempi supplementari soprattutto. Bravo Mambimbi. Palla ancora per loro. Mbappé. Arriva il gol di Kylian. 2-2. Me lo sentivo. Cioè doveva arrivare. Lo prendiamo nel modo peggiore. Mbappé con la numero 33. Inguardabile. Mancano 5 minuti per recupero. Alla fine dei tempi regolamentari. Con questo risultato sarebbero supplementari. Joe Pedro. Primo pallone toccato per lui. Allarga per TM7. Uefresco. Talesmagno col destro. Ipnotizzato da Courtois. Non ci arriva però il nostro Pellegrini. Quindi può ripartire il Real. Vinicius. Bruno Fernandes. Ancora Vinicius. Ora hanno messo dentro veramente giocatori importanti. Palla lunga proprio per Vinicius. Esce su di lui. Mancini. Si fa saltare. C'è ancora Lazzari. Kylian Mbappé. Per Meso Mount. Com'è passata. Asensio. Paratona di Perin. Al 91esimo minuto. Calcio d'angolo. Va Asensio dalla bandierina. Col suo mancino. Palla molto a palombella. Mbappé. Oh palla ancora lì che stiamo combinando. Ancora Kylian. Finisce il tempo regolamentare. Fisca l'arbitro. Saranno tempi supplementari per decidere chi sarà il super campione d'Europa. Mount di tacco. Ancora loro. Meso Mount. Ancora Vinicius. Stiamo attenti. Palla dentro. No. 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 Che erroraccio di Pierino Calulu. Forse uno dei primi errori che fa in generale nella nostra carriera. Kylian Mbappé alza il pallone per Asensio. La mette giù. Meso Mount. Mancini prova a inseguirlo. Solito gol come quello del 2-3. Ha segnato ancora il Real. Per gli ultimi 15 minuti di partita. Metto dentro Anghissa in difesa. Anche il giapponese come terzino. Facciamo il 4-2-4. Con quattro attaccanti. Per provare a riprendere. Bisogna farne due. Non è impossibile ragazzi. Non è impossibile. Bravo il giapponese. Recupera subito il pallone. Joe Pedro. Verso Ranocchia. Sale pala al piede. Felix potrebbe partire. Deve fare un bel movimento. Non riesce a farlo. Ancora noi. Renato Sanchez. Verso Smiley. Porta avanti il pallone. Dentro. C'è Joe Pedro. Attenzione. 3 minuti ci abbiamo messo per farne uno. Ne abbiamo 12 più recupero. Per farne un altro. Grande Joe Pedro. Gol all'esordio. Davanti alla porta. Porta vuota. Ma comunque ha segnato. Palla lunga. Vinicius. Contro di lui c'è il giapponese. Palla lunga per Mbappé. Bisogna ora sacrificarsi tutti quanti. Ancora Mbappé. La scodella dentro. Bravo Pellegrini. Ranocchia subito. Verso Smiley. Centralmente ancora per il capitano. Deve inventare qualcosa. C'è Felix. C'è Felix. Bel corridoio. Vai Mambimbi. Non puoi sbagliare col mancino. Questa è la carriera del rimonte. Remontata allo stadio in Europa. 4-4. Ha segnato anche Felix. Ora ho messo la difesa a 5. Formazione un po' strana. Entrerà anche Samex. Ci sarà tempo per chiudere la partita. Ancora loro. Assenzio. L'ho recuperato. Ma c'è ancora Giorginio. Chiudiamoci in difesa. Giorginio. Verso Bruno Fernandes. Non deve trovare linee di passaggio. Non riesce a recuperare palla. Mamma mia. Che tunnel. Nel Mbappé. Bravissimo Perin. Che paratona. Parata che può costare veramente la Supercoppa. Real esce Talesmagno. Entra Samex. Ultima occasione prima dei calci di rigore. Bruno Fernandes dentro. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ha segnato Edermi di Tao. 4-5. Il Real vince la Supercoppa UEFA. Che peccato. Onore comunque a noi che abbiamo fatto una bella partita. Si congratula con noi anche Ancelotti. E niente ragazzi. Succede. Abbiamo affrontato il Real Madrid. Alla pari. Sicuramente di buon auspicio per il proseguo della stagione. Come abbiamo giocato questa partita. Continuiamo il mercato. Facciamo gli ultimi colpi. E poi quest'anno si punta al triplete.